Presidente D'Alfonso, il Consiglio Nazionale dell'AICRE in Abruzzo è la prima volta nella storia una grande occasione per allacciare ancora di più i contatti con l'Europa. Non solo ma anche per mettere in onda una pagina concreta di federalismo tra i diversi livelli istituzionali che si occupano di territorio, avendo come frontiera l'Europa. Noi ci dobbiamo porre la domanda, serve di più essere più Stato o più Nazione? Io credo che ci interessi di più essere più Nazione mettendo in campo un'esperienza federalista, avendo da conto e davanti i grandi strumenti e le grandi opportunità dell'Europa nel fare crescita, sviluppo, nel fare anche cittadinanza attiva. Oggi è una giornata emblematica, storica, che noi dobbiamo nutrire col contributo di tutti. L'obiettivo, Presidente, è probabilmente anche quello di riavvicinare i cittadini all'Europa. Non solo ma anche di cogliere tutte le opportunità che l'Europa ha dentro di sé, anche quando si fa sfida culturale rispetto alle istituzioni. Noi dobbiamo sapere che l'Europa, oltre ad essere una sorgente di opportunità normative ed economiche, è anche una sorgente formidabile di esperienze di vita istituzionale, di vita sociale e culturale. Noi mettendo insieme le esperienze degli altri capiamo anche come possiamo fare meglio prima.